Lo scrittore Romangheri dichiarò, l'unica cosa sincera a questo mondo è lo sguardo dei cani, un altro monito asseriva. La fedeltà è una malattia tipica dei cani, purtroppo non trasmissibile all'uomo. Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguri, oggi narriamo una notizia ai limiti del surreale, contrapponiamo due storie diverse, due storie all'opposto, due storie agli antipodi di due personaggi femminili molto famosi da una parte Romina Power, dall'altra Barbara D'Urso a Modoloro, due eccellenze Romina Power, grande cantante, grande personaggio, personaggio empatico, donna di indiscussa classe, dall'altra Barbara D'Urso, un animale da palcoscenico, una conduttrice televisiva capace di trasformare dei salottini trash in un indice di ascolto davvero fenomenale, quindi due eccellenze, due donne di indiscusso successo, eppure, come detto, le loro storie sono piuttosto agli antipodi. Iniziamo dal narrare la meravigliosa storia di Romina Power, da una parte Romina Power, con un monito straordinario, un monito che è smisto a tutti quanti voi. Romina ci dice, lo fa tramite una diretta Instagram, i cani non sono assolutamente portatori del virus, anzi, sono le uniche creature, queste sono parole testuali di Romina Power, le uniche creature che in questo momento possiamo abbracciare, quindi amici YouTube, ricordate, tutte le fake news, tutte le bufale del fatto che i cani siano portatori, sono ovviamente tutte delle cavolate messe in giro, probabilmente da seminatori di panico, persone che non amano troppo gli animali, amici YouTube, se una persona non ama gli animali, molto probabilmente non ama nemmeno gli esseri umani, quindi ricordate, sono solo delle fake news, e facciamo tanti applausi a Romina Power, non 92 minuti di Fantoziana Memoria, ma comunque tanti applausi a Romina Power perché ha lanciato un messaggio davvero straordinario e per chi volesse approfondire, potete farlo dal profilo Instagram di Romina Power, Romina ci rende orgogliosi, noi che la seguiamo ovviamente con le varie scorribbante con i vari concerti in giro per il mondo con Albano, ovviamente, non in questo periodo, dall'altra parte abbiamo Barbara D'Urso, probabilmente la conduttrice italiana che i numeri alla mano riesce ad ottenere in relazione alle risorse a sua disposizione, i migliori ascolti, Barbara D'Urso mi fa venire in mente una frase di Paolo Coelho, Barbara D'Urso è capace di trasformare il piombo, il trash, diciamolo alla francese, via, un francesismo, è capace di trasformare la merda in successo, quindi con un contenuto discutibile, riesce comunque ad ottenere degli indici di ascolto davvero inarrevabili, ineguagliabili, quindi tanto di cappello a Barbara D'Urso, grandissimo animale da palcoscenico, ma di recente Barbara D'Urso, molto probabilmente anche per la troppa esposizione, mi rendo conto che quando si passa davvero tanto tempo in televisione c'è poi il rischio di fare delle gaffe imperdonabili, quello che ha fatto Barbara D'Urso ha davvero fatto incavolare gli animalisti, Barbara D'Urso ha presentato un veterinario che ha dichiarato che i cani si possono lavare con la candeggina diluita, amici YouTube non fatelo, tante sono state le lettere di protesta, questa pratica è assolutamente pericolosa, quindi abbiamo narrato due storie opposte, quella di Barbara D'Urso ci fa un po' accapponare la pelle, lo ripetiamo e in parte andiamo anche a fare l'avvocato del diavolo di Barbara D'Urso perché una troppa esposizione porta inevitabilmente a una perdita qualitativa, quindi troppa esposizione, porta inevitabilmente a tante gaffe, Barbara D'Urso ha fatto una gaffe davvero esagerata, la ripetiamo, ha invitato un veterinario e ha dichiarato in diretta che è possibile lavare i cani con la candeggina diluita, cani e altri animali, amici YouTube non fatelo, ricordate, i cani non sono assolutamente portatori, tutte le notizie che si leggono messe in giro da persone cattive, da persone che molto probabilmente non amano gli animali, sono solo delle bufale, quindi amici YouTube non credeteci, documentateci, ma dall'altra parte, dal rovescio della medaglia, c'è la meravigliosa storia di Romina Power, Romina Power ci ha davvero toccato il cuore e ribadisco ancora una volta il suo meraviglioso appello, i cani sono gli unici esseri che in questo momento ci è dato abbracciare, quindi amici YouTube non pensateci nemmeno lontanamente di abbandonare i vostri pelosetti, i vostri amici a quattro zampe, ripeto ancora una volta, i cani non possono in nessuna maniera essere portatori di contagio, la paura che circola è davvero tanta e me ne rendo conto, ma prima di fare qualsiasi cosa domandate, domandate a un veterinario, quindi non prendete per buono tutto quello che vedete in televisione, quindi questo è il mio consiglio, condividete questo video per far conoscere questa cavolata che è trapelata dai programmi di Barbara D'Urso anche per far conoscere questo messaggio, messaggio rafforzato da Romina Power, rafforzato dai suoi profili social, soprattutto da Instagram. Amici YouTube, in conclusione di questo video, volevo fare due cose, la prima, leggervi un meraviglioso commento, il commento del giorno, dopodiché ci saluteremo e vi racconterò una meravigliosa storia, il commento del giorno è vinto da Martina Turriziani che a giudicare dalla sua foto, del suo profilo, Martina è una cara iscritta del canale, è davvero una bella ragazza degli occhi che sembrano davvero due enormi smeraldi, complimenti Martina. Martina ci dice, Marco il peso di questa quarantena si fa sentire ma non è nulla a confronto delle persone che non possono dare nemmeno l'ultimo saluto come si deve ad un parente, mi rendo conto che forse non è il caso di scherzare, ma dal momento che so che tu sei un buon imitatore ti volevo chiedere di imitare il mio politico preferito, il governatore della campagna, Vincenzo De Luca, accidenti così su due piedi, ma come sapete il popolo è sovrano quindi devo rispolverare gli occhiali per imitare Vincenzo De Luca, amici di YouTube, il bello della diretta, non avevo letto prima il commento di Martina quindi devo improvvisare e vediamo come va la cosa, quindi imitiamo il presidente della regione campagna, Vincenzo De Luca che ultimamente è davvero in auge quindi tanti sono i meme soprattutto in versione sceriffo di De Luca che come sapete ha dichiarato di adottare delle norme molto severe, quindi andiamo ad imitare Vincenzo De Luca e vediamo cosa ne esce poi, scrivetelo nei commenti. Buonasera, sono il presidente della regione campagna, Vincenzo De Luca, ho sentito che tanti ragazzi vogliono fare la festa di laurea, ma quale festa di laurea? Vi mando i carabinieri con il lanciafiamme, ho sentito dire che tanti per la festa del papà hanno preparato le zeppole di San Giuseppe, zeppole con un ingrediente molto particolare, il virus, poi mi hanno chiesto cosa ne pensassi di Gigino Di Maio, soprannominato il polpetta, uno sterminatore di congiuntivi, uno per cui Dante Alighieri si sta ancora rivoltando nella tomba. Amici di Youtube, guardate cosa mi tocca fare in realtà, come detto il pubblico è sovrano, quindi ho accontentato volentieri la bellissima Martina Turriziani, Martina complimenti per i tuoi meravigliosi occhi e grazie per avermi dato il là per fare l'imitazione di Vincenzo De Luca. Mamma mia amici di Youtube, che cosa mi tocca fare? Voglio lasciarvi tuttavia con una bella storia, finalmente qualcosa di serio, oggi ho fatto anche il salto in banco. Volevo raccontarvi la storia del cane Hachiko, che cos'è la storia del cane Hachiko, è la storia dell'animale più straordinario e fedele di tutti i tempi ambientata. All'inizio dello scorso secolo, in Giappone, un professore di nome Ueno trovò questo cane molto affettuoso, questo cane che subito divenne il suo migliore amico dopo che il professore rimase solo in seguito al matrimonio della figlia, decise di adottare Hachiko, Hachiko che in giapponese significa otto e in giapponese il numero otto si dice porti fortuna, divenne davvero inseparabile, divenne il migliore amico del professor Ueno e lo accompagnava sempre a scuola. Purtroppo un giorno il professore morì improvvisamente e Hachiko continuò a percorrere la strada che faceva normalmente con il suo amico professore. Hachiko purtroppo trascorse tutti i suoi giorni fino all'ultimo giorno di vita ad aspettare il professore e si recava sempre alla fermata della stazione di Shibuya, laddove è ambientata. Questa storia, quindi una storia meravigliosa che ha poi portato anche dei film, ne ricordo uno meraviglioso, con Richard Gere ci fa capire quanto gli animali siano straordinari, quanto i cani siano effettivamente i nostri migliori amici. Non ne abbiamo bisogno, ma l'ennesima testimonianza, e amici youtube scrivetene i commenti, cosa ne pensate dell'imitazione del presidente della campagna, Vincenzo De Luca, ma soprattutto cosa ne pensate di questa meravigliosa storia, la storia di Hachiko che ha fatto il giro del mondo, vi ripeto, ha dato il là anche a meravigliosi film indimenticabili, io ho visto quello con Richard Gere, amici youtube, il cuore mi si è davvero straziato, ho pianto, e ancora piango, piango soltanto a pensarci l'emblema della fedeltà, pensate che nella stazione di Shibuya esiste un monumento dedicato ad Hachiko, una storia meravigliosa che eventualmente vi suggerisco anche di approfondire sul web, amici youtube, io vi ringrazio da Marco Liguri, scrivete nei commenti il vostro corposo commento, a tutto il contenuto che vi ho proposto in questo video, iscrivetevi al canale, seguitemi su instagram, a Marco Liguri7, seguitemi su facebook, Marco Liguri News, ciao a tutti!